bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi mi viene già da ridere mi viene già da ridere perché oggi ragazzi video molto speciale sai quei video che ogni tanto dici xyuder vigliaca suina non c'è in giro niente di interessante su fortnite allora ti riesci ad andare a trovare della roba che magari è passata un po inosservata beh ragazzi oggi ho voluto parlare di questo argomento perché è una cosa che un po ci tocca a tutti ragazzi come sapete nel mondo reale no quello davanti al computer nel mondo reale soprattutto nel mondo dello sport fortnite è diventato anche lì un fenomeno di massa ho già fatto un video circa un mesetto fa dove abbiamo visto non mi ricordo mai il nome di quel calciatore lì che faceva le esultanze durante i gol di fortnite abbiamo visto poi le esultanze da parte dei motociclisti dei motociclisti di quelli che vanno in moto nel gran premio sempre come fortnite abbiamo visto che nel baseball americano si gioca addirittura fortnite sui maxi schermi durante gli allenamenti beh ragazzi sono sempre state cose che come vi dicevo qualche secondo fa non si non ci hanno mai toccato diciamo particolarmente cioè chi è che in italia gioca baseball porca miseria poca gente poca gente quindi si dici griezmann griezmann si chiamava quella quindi dici ciao griezmann ciao cos'è cos'è ragazzi qualche giorno fa su tweet appare prot questo questo è instagram o twitter questo è twitter questo è twitter appare questo tweet del signor io già guardavo non guardavo più la juventus quando zlatan ha cominciato a giocare nella juve comunque sai zlatan ibrahimovic lo conoscono tutti watch and follow my brothers cake gs lions don't compare themselves with ninja cioè zlatan dice guardate la live di mio fratello e c'ha quel nome lì non mettetelo a paragone di ninja non si sa bene perché voglia paragonale di ninja e da lì la gente ha cominciato a incuriosirsi un pochettino di chi era beh ragazzi zlatan ibrahimovic ha cominciato a streammare fortnite sapete che già già c'ha mille cose da fare ma sci va buttiamo dentro anche un paio di ore streamiamo fortnite ragazzi e noi abbiamo il video noi abbiamo una piccola clip recuperata su internet di una di una fase di streaming di zlatan con suo fratello allora come vedete ragazzi questa è la parte iniziale è che gs è il fratello di zlatan e lui si chiama trastor si chiama tutti e due cattivissimi con la skin quella del quella lì la sbloccavi non mi ricordo quando la sbloccavi comunque la sbloccavi nel senso livello 66 suo fratello andiamo ragazzi a dare un'occhiata perché vale la pena dargli un'occhiata perché fa ridere perché è meraviglioso sentire cosa dice il nostro zlatan juventino che secondo me non gioca più la juventus mi sa è quello che fa il nostro zlatan andiamo a vederla devo mettere il mutuo a un certo punto perché spara la parolaccia cattiva quindi non vorrei che mi fulminassero la monetizzazione sul video allora amico mio la mia bocca amico mio amico mio la mia bocca è pazzamente bagnata non vorrei sapere che cosa stia facendo zlatan in quel momento lì io tu non ci puoi credere fatta non ci puoi credere e lui ride giustamente sto pensando di andare ah è asciutta la mia bocca è molto asciutta dice sto pensando di andare in piscina e bermela tutta e lui continua a ridere guardami dietro guardami dietro gli dice amico mio cattivissimo cattivissimo tanto già morto nel senso gli hanno già sparato di brutto di tutto di me noo è partito il parolaccia la bitto la bitto la bitto questo è suo fratello ragazzi cattivissimo e questo è brother love chat questo è brother love amore tra fratelli ma quando fortnite mette a zlatan characters non penso ma per favore zlatan ma per favore loro non possono mettere una skin di zlatan they can't afford me non ricordo bene cosa voglia dire effort ma deve essere tipo un tag life ragazzi beh beh come si dice questa era veramente una curiosità per quello che riguardava il nostro zlatanone che anche qui si trova sempre è un po' come il prezzemolo ragazzi via in su via in su dall'erbaccia nel senso lo trovi anche a giocare a fortnite ovviamente speriamo tutti che non ci entri con un intervento a gamba tesa mentre stiamo cercando di chillare suo fratello kegs e dire ai ragazzi che anche per questo video informativo è davvero tutto i video ignoranti d'oxuderino io vi ringrazio ragazzi tantissimo per averlo guardato vi ricordo un bel pollice all'insù se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi ragazzi che siamo nel contest 32.800 iscritti e andiamo a regalare un bel buono da 10 euro stasera in live noi ci vediamo presto ciao che faccia ciao zlatan ciao 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 ciao